L'iniziativa è bella comunque, no? Io ho visto pure quella di Perugia, siamo andati due volte nel gruppo di Monteluce, invece che cammina da soli. Ricordiamo che il piedibus è un modo di camminare insieme in un'oretta, un'oretta e mezza per conoscere il territorio ma anche per stare insieme, ha uno scopo sociale. Proviamo a ripristinarlo. E poi, allora è giù, po' poco tempo? No, già, è giovedì, no? Abbiamo cominciato a marzo con quella dell'UCC e... Sì, sì, sentire antichi che collegavano da un palco. C'era, 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 sarà, c'era. Samia Yusuf Omar era un'atleta somola che partecipò alle Olimpiadi di Pechino nel 2008. Esiste un libro, vi dicevo, che è Non dirmi che hai paura, di Giuseppe Catozzella, che è della Feltrinelli, vi invito eventualmente a comprare se volete a leggerlo. E vi dico anche che questa ragazza è, diciamo, abbastanza conosciuta nel mondo dell'atletica perché da quattro anni a questa parte gli è stata dedicata una corsa podistica con camminata, quindi una cosa molto simile a quello che facciamo noi in alcune città d'Italia. Inventa un simbolo per le donne musulmane in tutto il mondo. Grazie. 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 Grazie.